Per Bologna il giorno che segna la fine del vecchio governo pontificio è il 12 giugno del 1859. È un evento che avviene con una grande tranquillità, non ci sono moti di nessun tipo. Gli austriaci nella notte tra l'11 e il 12 lasciano la città, le armate austriache lasciano le città. Il cardinal legato Milesi che prima era sembrato così incerto, quasi non credesse a quello che stava per avvenire, a sua volta si allontana dalla città e Bologna si trova ad essere qualcosa di diverso da prima. Non è più una città dello Stato pontificio, non è più la seconda città dello Stato pontificio o se vogliamo la prima città delle legazioni come si considerava. È una città nuova e che si deve dare un suo governo, appunto il governo provvisorio che dovrà traghettare la città verso altre prospettive politiche. La mattina del 12 giugno i bolognesi si trovano in piazza Maggiore e con solennità ma senza atti rivoluzionari fanno scendere gli stemmi pontifici dal palazzo comunale e lo sostituiscono con la bandiera tricolore. Ovviamente la bandiera tricolore da allora, cioè quella col segno dei Savoia, con lo stemma dei Savoia al centro e in città cominciano le feste, cominciano i festeggiamenti. Avviene un piccolo scontro a Samoggia, nell'Interland bolognese, ma è proprio una cosa di poco conto e non è nemmeno un atto militare. Quindi la città immediatamente chiede a Vittorio Emanuele II di assumere la dittatura come atto formale. Vittorio Emanuele accetta, insomma non tanto la dittatura, ma accetta questa prospettiva di un ingresso di Bologna, ma anche delle altre città delle legazioni dove progressivamente il governo pontificio è caduto così come nei Ducati e avvia quella fase che porterà poi queste terre, queste aree geografiche alla unificazione con il regno Savaudo. Nell'intervallo tra il 12 giugno del 59 e il primi giorni di marzo del 1860, quando appunto proprio verrà votato l'annessione al nuovo regno, in città si susseguono una serie di governi provvisori. Prima appunto quello nominato, la giunta di governo nominata dal ex senato bolognese, poi verrà inviato dal Piemonte prima Massimo D'Azeglio, poi Leonetto Cipriani e infine Luigi Carlo Farini che già dittatore di Modena assumerà anche il governo nelle ex allegazioni, tant'è vero che da quel momento verrà definito il dittatore delle Romagne, dittatore nel senso romano del termine, cioè dictator, colui che organizza, conduce e forma da vita ad una nuova realtà politica e sociale. Farini assieme a Bolognesi, assieme a Alminghetti, ma assieme a Antonio Montanari, quella che era un po' a Gioachino Napoleone e Pepe, insomma ricostruiranno un po' o costruiranno diciamo una nuova legislazione che sarà quella poi che traghetteranno nel Regno Unito, nel Regno Unitario. Vengono fatte leggi di polizia, cioè relative all'ordine pubblico cittadino, vengono avviati le scuole medie superiori, il liceo Galvani per dire uno delle realtà bolognesi più conosciute, nasce anche lui all'interno delle riforme Farini, le varie sovrintendenze ai beni culturali, le varie sovrintendenze, come si chiamavano loro, la deputazione di storia patria, la sovrintendenza alle belle arti, e anche riforma dell'università. Cioè l'università ritorna, non è più l'università pontificia, è la nuova università che entrerà nello Stato Unitario e che attraverso la riforma di Farini e in questo caso coadiuvato da Antonio Montanari, che poi sarà reggente dal 62 al 68 dell'università stessa, assumerà quel volto che farà sì che una volta arrivati all'interno del Regno Unitario, del Regno d'Italia, Bologna, l'università di Bologna sia classificata fra le università di serie A, quindi fra le università più importanti, il fatto che porterà a Bologna docenti di alto prestigio, primo di tutti Giosuè Carducci, che insegnò letteratura italiana appunto all'Università dell'Ateneo Bolognese e visse qua tutta la seconda parte della sua vita.